L'incrostazione del sistema di propulsione è una preoccupazione costante dei proprietari di barche. A differenza della tradizionale vernice antivegetativa, PropSpeed semplifica la manutenzione del sistema di propulsione. Anziché eliminare la crescita di vegetazione marina con le tossine, crea una superficie liscia che ne impedisce l'attaccamento. Qualsiasi eventuale crescita di vegetazione marina è facilmente rimovibile o si elimina attraverso il movimento stesso dell'elica. PropSpeed è un sistema di rivestimento a doppio composto, formato da uno strato di base Etching Primer, seguito da un top coat trasparente, che formano un rivestimento che non ha uguali in termini di adesione e resistenza alla corrosione. I metalli senza rivestimento richiedono una maggiore protezione anodica. L'effetto isolante di PropSpeed riduce la protezione anodica necessaria. La scelta dell'anodo può influenzare le prestazioni dei rivestimenti protettivi. Gli anodi molto reattivi causano la perdita prematura del rivestimento a causa di un processo chiamato di stacco catodico. Essere a conoscenza dell'anodo adatto al tipo di imbarcazione permette di ottenere una sostanziale riduzione della perdita di anodo e di rivestimento. L'efficienza complessiva è migliorata ed è possibile evitare in modo ecologico che i metalli dell'imbarcazione si degradino. PropSpeed non è tossico per la vita marina e non contiene biocidi. Crea un equilibrio tra rivestimento e protezione anodica per proteggere l'ambiente marino con una performance del rivestimento migliore. Proteggi i tuoi beni subacquei con PropSpeed, rivestimenti superiori, navigazione migliore. Il nostro team internazionale è qui per fornire assistenza. Contattaci oggi per saperne di più.